Questa è l'ultimo tentativo per fare il diciassettesimo festival Lugano Tango. Ce l'abbiamo fatta in forma ridotta e grazie alla disponibilità e alla voglia di Gustavo e di Giselle di venire a Lugano, di stare a Lugano e di stare a Lugano con noi. Quindi, adesso, tutti quanti, la Casa del Tango in primis, accogliamo, come sappiamo fare noi, Gustavo Navera e Giselle Lange. La Casa del Tango 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 La Casa del Tango